Dopo tanto tempo siete tornati con questo album forte, impegnativo. Quanto tempo ci avete lavorato? È stato complicato svilupparlo? Effettivamente ci abbiamo lavorato per circa tre anni. L'idea è nata sotto il periodo Covid e la comunicazione tra me e Renato che scriveva i testi e io pensavo un pochino più alle musiche è avvenuta proprio a distanza. E questo insomma ci ha creato delle difficoltà da una parte perché ci voleva del tempo ma in realtà noi stando da soli nelle nostre abitazioni poi con quel tipo di atmosfera la creatività è stata proprio perfetta per il tema. Una delle complicazioni è stata quella di cercare gli interpreti dei vari personaggi della Settimana Santa che sono tanti, compresi anche altri musicisti tra cui il sassofonista che ringraziamo Maurizio Sallusti. La complicazione è stata appunto quella di coinvolgerli e di sceglierli dal punto di vista caratteriale e anche vocale. E quindi è stato molto impegnativo ma devo dire molto soddisfacente perché è stato bellissimo contattare voci diverse e pensarle prima e sentirle realizzate è stata una soddisfazione.